La ricostruzione nelle case ATER inagibili a Teramo è ferma al palo? Sì, purtroppo sì, siamo agli annunci, ovviamente restiamo agli annunci. Noi ovviamente con tutto il rispetto per il presidente dell'ATER che dimostra molta disponibilità e molta correttezza, anche con il sindaco e con tutte le figure istituzionali, però ovviamente siamo già appunto almeno da un anno e mezzo, la prima primavera dopo i primi forti terremoti, che si annuncia l'imminente rientro a casa. Ricordiamo Brucchi proprio in questa sede che annunciava alla fine dell'estate di un anno e mezzo fa rientro, poi fino ad altri annunci, fino a quello recente, penso che entro Natale qualcuno sarebbe rientrato a casa. Perché ci sono i fondi per far partire la ricostruzione? I fondi pare che almeno da un anno, ci dicono almeno, da quando venne la De Michelis a Teramo, i fondi pare che non siano un problema di soldi, pare che sia un problema di burocrazia, di meccanismi farraginosi per andare avanti, però è chiaro che con queste calamità terribili occorrono provvedimenti d'emergenza, non di ordinaria amministrazione. Altrimenti di questi ritmi, ad esempio dopo due anni siamo all'aggiudicazione dei primi progetti, di un primo edificio, essendo 26 edifici Ater ad esempio da ricostruire oppure fare manutenzione, di questo passo fra dieci anni saremo quasi a metà dell'opera, è chiaro che non è così. Quindi noi facciamo conto alle rassicurazioni, anche dell'Ater che si è impegnata ad assumere il personale tecnico per avanzare con i progetti e si spera praticamente che vengano fatti, se non dico tutti insieme, almeno nel breve di qualche mese si vengano fatti tutti e poi vengono iniziati i lavori, altrimenti i ritmi sono proprio veramente da calende greche.